Sono qui da solo come un cane abbandonato, ma Gesù Cristo mi faccio segretare, avrei finito. Ma stai tenta che stai bene, sta libera tranquilla. Scusa, ma guarda quanta gente c'è da sola. Io da sola non so far niente. Oh, è stato un brutto momento, l'azienda in cui lavoravo mi chiede un assunto di permessi amministrativi. Sì, allora ho fatto uno scarabocchio, più o meno uno scarabocchio come quello che fa lei. Perciò le chiedo questo favore, un ulteriore favore di fiducia. C'è ancora un pericolo, eh? C'è il pericolo. L'agio è stupido quello che mi ha linda. No, sì. Vorrebbe queste tre soline di terreno qua di San Piorano, pieno di solato. Se lei sta a terra, le arrivano, perché ce la prende voi tre tre soline lunghe?